Occorre dire chiaramente e ad alta voce che gli anziani sono una preziosa risorsa per le famiglie e per la collettività, che la crescita di una società passa attraverso un incontro e non un conflitto tra le generazioni. Di questo incontro abbiamo bisogno. Le prime righe del saggio di Simone de Beauvoir, la terza età, raccontano l'imbattersi del giovane Buddha, ancora principe Siddhartha, in un vecchio. Non sapeva chi fosse un vecchio. Glielo spiegò il cocchiere che l'accompagnava nelle fughe dall'agiata e ingannevole vita di palazzo. Che disgrazia, gridò il principe, che la gente non veda la vecchiaia. Sì, allontanarci dagli anziani è davvero una disgrazia. Come lo è restare chiusi in un palazzo che non coglie il divenire e le opportunità della storia.